Maramao Caffè purtroppo incappa in una seconda giornata di stop contro il One Love Caffè 7 a 1 per loro, tra le cattive notizie però emerge il nome di Graziadio Ivan che invece risulta essere migliore in campo per la sua squadra Sì, beh, abbiamo fatto migliore in campo, oggi ho corso un po', loro giocarono 5 anni Vengavano insieme, una bella squadra, noi ricordiamo un po' di meno ma ci sta anche la sconfitta Quindi purtroppo sono due giornate e zero punti per il Maramao, cosa pensate di fare allora in questo girone? Le prossime due sono due vittorie sicure Perfetto, un calcio all'ottimismo, grazie e grazie a tutti Grazie, arrivederci